Quante bombe ci sono? Dove le hai messe? Voglio parlare con Bruce Wayne Dimmi dove sono, figlio di puttana Che ti aiuta? Bruce? Wayne? Non parlerai mai con Bruce Wayne, hai capito? Allora moriranno altre persone Ma non sei mai stato bravo a tenerti strette quelle a cui tieni, vero James? James! Ci servi fuori, subito! Ciao!